Samuel Puffendorf, Giusnaturalismo e socievolezza umana. Il filosofo e giurista tedesco Samuel Puffendorf vive tra il 1632 e il 1694. È noto principalmente per i suoi contributi agli studi della legge e ciò in particolare alla luce delle realtà politiche emerse dalla guerra dei 30 anni. Quando ancora era studente di etica e di politica rimase fortemente impressionato dalla dottrina giusnaturalistica messa a punto dall'olandese Ugo Grozio. Ma non di meno su Puffendorf vi fu una grande influenza filosofica anche delle dottrine di Francisco Suarez. Rimase sempre fedelissimo ai principi della religione luterana Puffendorf e si propose l'ambiziosissimo obiettivo di compatibilizzare fra loro i primi nuclei del pensiero politico preilluministico con la teologia cristiana. Nel 1660 Puffendorf viene nominato docente presso l'università di Heidelberg. Nel 1667 si trasferisce presso l'università di Lund e proprio qui dà alla luce il suo celeberrimo testo nel 1672 intitolato De jure nature et gentium, la legge di natura e degli stati. L'opera consta di otto libri e si pone come una vera e propria giustificazione dell'assolutismo. In ciò Puffendorf si pone sul solco della dottrina di Thomas Hobbes dal quale tuttavia diverge per un punto antropologico-filosofico fondamentale. Se per Hobbes l'uomo in quanto tale è un animale non socievole, homo homini lupus, per Puffendorf al contrario l'uomo, come già per Aristotele, è caratterizzato da intrinseca socievolezza. L'uomo è cioè uno zon, politikon, un animale socievole, politico e comunitario. Proprio la socievolezza umana, secondo Puffendorf, sta a fondamento della fondazione della legge di natura. Questa originaria disposizione alla socievolezza è stata tuttavia corrotta dalle situazioni successive, situazioni successive nelle quali l'uomo si è trovato a vivere procedendo al conflitto e all'odio verso i propri simili. Secondo la prospettiva religiosa si può affermare che la caduta coincida col peccato originale commesso dal primo uomo. La domanda fondamentale è la seguente, che cosa ne sarebbe della vita umana se non vi fosse una legge a regolarla? La risposta di Puffendorf è la seguente, se non vi fosse la legge a regolare la vita umana, la vita umana stessa sarebbe di fatto quella di un branco di lupi, di leoni o di cani che combattono fino alla morte. Il richiamo ai lupi naturalmente è di fortissimo sapore obsiano. Proprio per scongiurare questo rischio Dio, il legislatore sovrumano, ha imposto agli uomini leggi naturali alle quali essi sono chiamati ad attenersi senza mai allontanarsi da tali leggi. Esse sono leggi anzitutto divine che sono state ereditate e poi codificate dagli uomini nelle loro costituzioni. Per questo motivo, se dopo il peccato originale Dio non avesse consegnato agli uomini le leggi di natura, essi si troverebbero adesso nella condizione ferina delle belve che lottano, la condizione dell'uomo homini lupus teorizzata da Tommaso Hobbes. La legge di natura è giusto appunto fondata sul principio per cui si deve sempre comunque preservare la vita in società dell'uomo. Mai bisogna allontanarsi dalla vita in società, pena una ricaduta nella ferina lotta di tutti contro tutti, bellum omnium contra omnes. Concretamente da che cosa nasce il diritto naturale? Secondo Pufendorf il diritto naturale trae origine da due fattori. In primo luogo dall'amor proprio. L'amor proprio induce l'uomo a sforzarsi di conservare se stesso e a cercare senza posa il proprio benessere. In secondo luogo il diritto naturale per Pufendorf nasce dallo stato di indigenza in cui l'uomo si trova a vivere nella natura. Dato che la caratteristica specifica dell'uomo sta nella razionalità, che lo distingue dalle altre bestie, il diritto naturale viene apporsi di conseguenza come la risposta che la ragione umana dà al problema sollevato all'uomo dall'amor proprio e dall'indigenza. Il principio fondamentale della legge di natura può così cristallizzarsi. con le parole di Pufendorf, ciascuno per quanto dipende da lui deve promuovere e mantenere coi sui simili uno stato di socievolezza pacifico, conforme in generale all'indole e alla finalità del genere umano. Così nel secondo libro 2-3-10 dell'opera capitale Deiure Nature et Gentium. Quando fu stipulata la pace di Westfalia 1648 si tentò di eliminare dalla sfera pubblica ogni controversia religiosa. Ebbene Pufendorf andò lievemente cambiando la propria dottrina e si sforzò di desacralizzare la politica privatizzando la religione. In tal guisa Pufendorf apriva la via alla filosofia del deismo che tanto successo avrebbe guadagnato nell'età dell'illuminismo.